Buongiorno, il mio nome è Massimo Caccia e sono professore ordinario di fisica sperimentale al Dipartimento di Scienze e Alte Tecnologie dell'Università dell'Insubria. Sono un fisico sperimentale, un fisico sperimentale delle alte energie, della fisica e delle particelle. Come quasi tutti i quali della mia generazione ho avuto la fortuna di crescere scientificamente non solo al CERN, in laboratorio europeo e mondiale, la casa di LHC, il luogo in cui è stata scoperta la particella di Higgs. Ho vissuto dieci anni lì, arrivando da Milano, tornando a Milano, avendo studiato a Torino e circa vent'anni fa sono atterrato all'Università dell'Insubria, quasi in modo incidentale, ma è stato un percorso che mi ha portato in un luogo dove mi sono trovato bene, dove ho saputo sviluppare la mia libertà d'azione, la mia capacità di ricerca e dove ho avuto un numero di soddisfazioni veramente incredibile. Io lavoro sui rivelatori di particelle, occhi al silicio che vedono le particelle subatomiche, ci dicono quando e dove sono passate, cose che sembrano un pochino esotiche, cose che poi in realtà hanno un grande impatto anche nella vita comune. La dosimetria medica, l'imaging diagnostico, le luci emesse, i quanti di luci emesse dalle cellule di cui andiamo a studiare le interazioni, necessitano tutti di questi strumenti. Questo è quello che facciamo, questo è quello che perseguiamo in questo laboratorio, piccolo ma denso di cose, di persone e di idee, provinciale ma che parte dalla provincia per arrivare al mondo. L'università è il luogo in cui si para guardare oltre sull'orizzonte, l'università è la casa dei disegnatori di futuro. I progetti che vi abbiamo presentato e che continueremo a presentarvi nelle prossime settimane sono porte che si aprono sul vostro e sul nostro domani. Anche voi potete essere parte di questi progetti e delle nostre ricerche. Anche voi potete aiutarci a disegnare il futuro. Noi contiamo su di voi.